L'avvocato Conte non ha più il Giuseppi, di trampiana memoria. Il presidente dei pentastellati smette la plombe governativo infiocchettato dalla pochette, in maniche di camicia, picchia i pugni sul tavolo del pacifismo elettorale. L'ex presidente del Consiglio, reduce dalla plebiscitaria riconferma online, senza rivali, alla guida del movimento, ha vissuto due settimane di ostentato smarcamento dal suo successore a Palazzo Chigi, Mario Draghi. Il terreno della presa di distanze a parole è quello delle conseguenze, in termini di ottemperanza gli ha coordinato sulle spese militari nazionali, del conflitto causato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Compromesso di facciata tra i due litiganti, il bilancio della difesa dovrebbe salire al 2% del PIL da oggi al 2028, non tra due anni. Fin qui, il polverone sollevato da Conte e dal suo inner circle comunicativo. Nel tentativo, evidente quanto improbo, di evitare il sospirato ritorno di una formazione fondamentalmente protestataria ad una dimensione elettorale ragionevole, cioè politicamente inoffensiva. Quindi, basterebbe fermarsi un attimo e fare mente locale, per dare a queste polemiche il peso che effettivamente hanno. Nessuno. Giuseppe Conte, infatti, è stato capo del governo italiano dal 1 giugno 2018 al 13 febbraio 2021, alla testa di due diverse compagini ministeriali, espressione di due opposte formule politico-parlamentari. Durante questi due anni e otto mesi, durata, sia pur non formalmente ininterrotta, tutt'altro che trascurabile per i governi del nostro paese, in quale aspetto essenziale Giuseppe Conte ha mutato la politica estera dell'Italia? Una volta di più, nessuno.